La capolista Sala si firma sul più bello. Dopo lo sprint eseguito nelle prime giornate di campionato, la formazione di Bartolini impatta in casa una partita pazzesca con Riccione, 3-3 il finale. I padroni di casa cercano da subito di premere sull'acceleratore ma il cross di Pagano viene sfruttato a dovere. Il Riccione ha bisogno fortemente di muovere la classifica e da calcio piazzato si rende pericoloso prima che Balducci provi successivamente a mettere paura alla porta difesa da Caprilli. Sul traversone proveniente dalla destra il Riccione però passa, Franchini di testa buca la retroguardia Rosso e Bru trovando l'1-0 ospite. Dalla bandierina il Sala prova a rispondere con Tacchi che costretta a compiere un salto all'indietro per rifugiarsi in corner. Da punizione Zofoli mette questo pallone velenoso non sfruttato da nessuno dei propri compagni. Il Riccione prova a rendersi puericoloso con questo sterile colpo di testa di Basile terminato a lato. Sul versante opposto il Sala reagisce come trovando i pari forse con un'azione propiziata da un fallo di mano con Ferraro. 1-1 e ristabilita la parità in campo. Ma addirittura i padroni di caso la ribaltano poco dopo con questo gran tiro dentro l'area di rigore a cura di quarta. Siamo sul 2-1. Neppure il tempo di festeggiare che dall'altra parte Balducci ci pensa lui a suo modo a chiudere la prima frazione di gioco trovando i gol del 2-2. Nella ripresa la capolista bussa alla porta di Tacchi. Calandrini di testa non incide ma la partita si mostra da categoria superiore. 3-3. Azioni da una parte e dall'altra fino al gol che sembrerebbe mettere tutti o quasi d'accordo. La stafilata di Gasperoni ed applausi. 2-3. Il Sala cerca questo punto di pareggio. Magnani ci prova di piede e in fine di testa senza trovare gloria personale. Ma trovarle invece è proprio a fotofinish e Pagliarani. Siamo sul 3-3. Partita finita? Manca a dirlo. Nei minuti di recupero i portieri sono ancora protagonisti. Qui Tacchi sventa la grande in tentativo. Sobre il santo posto Basile tenta la volée prima che Calandrini di testa chiuda il cerchio. 3-3 in finale e applausi da parte di tutti i presenti.